Allora, oggi è la quindicesima edizione delle lezioni urbinatiche, hanno visto succedersi studiosi di altissimo livello. Oggi abbiamo uno studioso scrittore, Alessandro Piperno, che è un francesista e anche un romanziere importantissimo, che ben rientra nella scia delle tematiche che caratterizzano l'attività della Fondazione Carlo e Marie Seboe. I suoi lavori su Proust hanno creato molto dibattito scientifico in Italia e all'estero, i suoi romanzi sono tradotti in tutto il mondo. Lui è stato spesso accostato a Philippe Roth e a Marcel Proust e oggi ci parlerà appunto degli echi proustiani in Philippe Roth. Il mio intervento sarà su due giganti della letteratura universale, uno è morto l'anno scorso che è Philippe Roth e l'altro invece è morto un secolo fa che è Marcel Proust e cercherò di trovare ciò che li mette assieme, che li tiene assieme, scrittori così spaventosamente diversi ma con delle segrete affinità. Una di queste affinità è il tentativo di ridare lustro al tempo perduto attraverso un sentimento nobile come la nostalgia. Beh, lo è, insomma, è una delle grandi città letterarie di questo paese per una serie di circostanze. Sicuramente, come dire, l'ombra di Carlo Bo è in forma di sé ovunque, è come se ci fosse un'enorme nuvola di sigaro toscano che si è impadronita della città, diciamo. Grazie a tutti.